Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Continua la strumentalizzazione sui media e sui social da parte di alcuni sindaci, guarda caso la maggior parte di colore partitico, relativamente alla vicenda dei bandi di periferia. L'onestà vorrebbe per questi primi cittadini che pubblicassero innanzitutto le convenzioni firmate, in secondo luogo quelli che sono i dispositivi di approvazione dei progetti, i relativi estremi, le verifiche tecniche, la validazione, i bandi e le assegnazioni dei lavori. In questo modo sì che potremmo avere un'operazione di trasparenza, onestà e verità da parte dei primi cittadini.